come si fa a investire in maniera costante senza rimanere senza soldi come si fa a mettere soldi sul conto di emergenza e soprattutto come faccio a fare in modo che a fine mese ogni conto broker ogni conto di risparmio tutte le spese vengono pagate in maniera completa senza per questo ritrovarmi a secco di liquidità oggi ti volevo proprio dire come automatizzo il tutto e come questo potrebbe essere un ottimo spunto per farti capire come questo potrebbe adattarsi ad ognuno di noi a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario aif oltre ad essere autore del libro dal meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo voglia acquistare dove racconto la mia esperienza da addebitato seriale ad un investitore è un risparmiatore in calito nei video delle scorse settimane prima della pausa di ferragosto abbiamo visto come sia importante andare a pianificare il tutto con un budget che ci aiuti a creare una nostra stabilità finanziaria monitorando le spese seguendo un piano un budget rende più facile pagare le bollette in tempo creare un fondo di emergenza e risparmiare per spese importanti come ad esempio possono essere un'auto o una casa nel complesso un budget mette una persona su basi finanziarie più solide sia nella vita quotidiana che per il lungo termine ma una volta capito questo bisogna sicuramente passare alla parte pratica come fare in modo che la pianificazione non venga vanificata da comportamenti ad esempio errati magari dettati dalla propria psicologia dai bias dal pensare che i soldi non saranno abbastanza per fare tutto quello che ci si è ripromessi partendo dal semplice presupposto che un budget debba essere la base di partenza e che perlomeno dovete essere in grado nel caso non lo voleste compilare di avere un completo controllo nella compressione totale delle vostre spese come bisogna organizzarsi nella gestione dei propri soldi io penso che sia un approccio molto personale sono persone alle quali basta un solo conto corrente un solo conto broker e ci sono persone malate della organizzazione come ne conosco qualcuno tipo quello che registra questo video che vogliono che sia tutto completamente composto da delle separazioni e molto organizzato come accennavo precedentemente prendete solo spunto e poi adattate alle vostre esigenze soprattutto non solo in base a quello che siete voi ma anche in base a quelle che sono le vostre entrate quello che guadagnate presuppone che venga organizzato ma ovviamente se siete stagisti a 600 euro al mese non vivete con la famiglia queste considerazioni sono solo uno spunto di crescita personale ed un modo per per predisporsi mentalmente per quando poi lavorerete a tempo pieno con uno stipendio ben definito allora partiamo io dicevo il mio stipendio tra dipendente il giorno 27 di tutti i mesi come molti di voi magari faranno visto che ho budgetizzato tutto quello che faccio è andare a pagare me stesso e il mio futuro prima di tutto ho quattro conti deposito un fca bank un altro sul banca progetto uno con fin domestic e infine uno con santander bank nel conto di fca vado a mettere tutto quello che sono i soldi che vorrei utilizzare per le spese ad esempio delle vacanze pochi spiccioli tutti i mesi il mio scopo non è pagare tutta la vacanza ma fare in modo che dalle varie tredicesime quattordicesime o semplicemente i miei stipendi non ne vengono intaccate una parte così importante da mettermi in difficoltà nel conto fin domestic invece metto tutti i soldi che serviranno a pagare le tasse della ditta di macrofin di solito questi sono quasi tutti quelli che guadagno da youtube dalle collaborazioni dai link affiliati dalla vendita dei libri e così via nel conto di banca progetto invece metto dei pochi spiccioli ogni mese che sono i soldi che sto accantonando per l'educazione di mio figlio libri che serviranno futuro o altre cose come ad esempio attrezzature varie sappiate tutti che i libri delle medie delle superiori sono delle batoste veramente inimmaginabili sono estremamente costosi poi se siete andati a scuola lo sapete perché quindi non cominciare ora a fare in modo che non sia una problematica nel futuro secondo me è un passo che ho voluto fare con molto pianificazione anche qui questi pochi spiccioli ogni mese vanno a costruire un gruzzolo infine sul conto di santander consumer banco il mio conto di emergenza qui verso quanto più posto tutti i mesi ma mai meno di 200 euro al mese sono soldi che servono per aiutarmi ad affrontare le cose inaspettate le problematiche inattese che purtroppo capitano nella vita di tutti noi e soprattutto capitano spesso passiamo ai conti correnti ne ho due un conto intesa san paolo e un conto guidi ma dal conto guidi ma gestisco tutta la mia vita personale mentre sul conto intesa san paolo tutta la gestione di macro fin della vita personale cerco di tenere separate le due cose senza mai andare a mischiarle magari anticipando soldi da un conto all'altro per coprire eventuali situazioni di emergenza che vengono poi comunque ricoperte quasi immediatamente organizzarsi prima permette di evitare i problemi dopo per cui tutti gli f24 il commercialista i costi che ho avuto per la creazione dei libri costi dello spazio web della pec e così via sono gestiti sul mio conto intesa san paolo mentre affitto bollette spesa vestiti e così via sono gestite dal mio conto uidiba anche le spese cerco di organizzarle ho messo sul conto uidiba degli alert che mi ricordano che in una determinata scadenza devo pagare qualcosa se ad esempio mi arriva all'inizio mese la bolletta della luce per la quale mi viene scritto che sarà debitato al 25 di quel mese o magari del mese successivo mi metto un set per un alert al 20 per cui 5 giorni prima circa per ricordarmi che devo avere l'equidità presente in quella data in questo modo evito che le spese magari non strettamente necessarie come ad esempio una cena fuori possono andare a impattare su il pagamento di eventuali scadenze per cui devo far trovare quei soldi in quel determinato giorno ed evitare eventualmente uno sforamento di conto e non andare sul fido poi gli alert gestisco anche le eventuali rate dell'affitto le spese che sono cadenzate le rate dell'auto e così via mai nulla è lasciato al caso e ti posso assicurare che anche così facendo qualche cosa scappa dal mio controllo a meno così però si riduce l'errore umano infine ho due conti broker directa e bg saxo bank nel primo vado a inviare soldi per il pack che è destinato a mio figlio al momento questo pack è relativo a due etf ma utilizzo directa anche per questione di costi per effettualmente effettuare e costruire una certa posizione su alcuni etf a zero costi che mi interessano che magari vanno bene per la mia strategia l'investimento e che poi vado a spostare a trasferire sul mio conto bg saxo una volta che la posizione è stata raggiunta così ho risparmiato tanti costi di gestione su bg saxo invece come sempre come sapete tutti vado a mettere i soldi che sono per il mio portafoglio personale per i miei investimenti in etf azioni ed eventualmente opzioni beh queste sono gestite da qui come si vede la grafica ogni mese circa un 4 per cento va al conto per i libri di mio figlio un 7 per cento al conto relativo alle vacanze il 13 per cento va al conto di macro fin il 22 per cento al pack di me figlio e poi un 27 per cento a testa vanno sul mio conto broker bg saxo bank e sul mio conto di emergenta quando raggiungerò eventualmente alcuni obiettivi di risparmio come ad esempio i tre mesi di allocazione del conto di emergenza posso considerare di andare a diminuire o eliminare alcune voci alcune spese di accantonamento ed aumentarne eventualmente delle altre ovviamente non si tratta un mantra ma sono delle mie regole personali quali sono invece le tue fammelo sapere magari nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste considerazioni e di questa organizzazione qual è invece la tua organizzazione nella gestione dei tuoi soldi se questo video è stato il tuo credimento per favore ti chiedo la cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando magari un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube per farmi crescere qui sulla piattaforma a te costa un attimino ma per me significa il mondo se sei nuovo su questo canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo anche per oggi è tutto e noi ci vediamo per un prossimo video a presto ciao